L'arte di pizzaioli napoletane è una soddisfazione per questo simbolo della città. Sì, è un grandissimo risultato voluto dai pizzaioli innanzitutto, dalle associazioni, dai cittadini in tutto il mondo, dal comune di Napoli che ha contribuito a raccogliere tante firme, adesso finalmente un riconoscimento ufficiale, segno che Napoli è tornata credibile in modo forte a livello internazionale, la pizza è uno degli elementi forti e identificativi della nostra città.